Pane veloce cotto in padella 300 g di farina 00 150 ml di acqua 3 cucchiai d'olio Mezza bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate Una volta pronto l'impasto può essere utilizzato immediatamente Io ho diviso l'impasto in tre parti In alternativa è possibile anche stendere un disco grande ricavando delle focaccine Cuocere in una padella ben calda E dopo pochi minuti il pane è pronto Ciao Ciao